ciao a tutto Synthcafè sto facendo questa prova quindi mi aspetto critiche bestemmie e quant'altro però benvengano purtroppo non mi vedete in video sono qua vicinissimo è l'unica cosa che sono riuscito a reperire un microfono sure ad archetto è l'unico che forse mi funziona meglio qua in studio spero che quindi l'audio del microfono si sente decentemente volevo provare a fare questa prova e condividerla con voi quindi sentire un attimo com'è il mio parlato mentre giochicchio con le macchinette come potete vedere qua davanti la grande ritma e la sorellona keys quindi proviamo io ho buttato giù proprio quattro cosine sulla parte di drum e lo spippiolamento minimo minimo sulla parte del synth non sono musicista premetto smanetto 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 allora do un po' di ciccia alla base almeno io smetto di parlare non sono musicista premetto smanetto 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 non sono musicista premetto smanetto 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 non sono musicista premetto smanetto 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 ok prova fatta ragazzi da bergamo scusate l'accento molto bergamoide grazie critiche commenti quant'altro grazie buona serata a tutti e buon sinta vita